ecco qua amici quando uno è solo si fa le comodità avete visto adesso lo accompagno un pochino lo metto in macchinetta e come dicevo amici vedete ci vogliono le comodità per andare a caccia vedete e questo è come è entrato da solo e che è pari ballo ecco qua cazzo cosa c'è qui cazzo